Figlio di Dio che è venuto in questo mondo per salvare i peccatori, Gesù ha dato la sua vita per noi. Abbi fedele Signore, abbi fedele Re dei Re, e Lui ti libererà da ogni oscurità, da ogni schiavitù. Ti libererà da ogni peccato, e il meglio di Dio entrerà dentro di te, la grazia di Dio ti illuminerà, l'amore di Dio ti riempirà, ti sazierà, ti ricolverà, Perché Gesù è il pane della vita, Gesù è il pane che è disceso dal cielo, il vero pane che alimenta, che alimenta l'anima, che sazia i nostri cuori. Gesù è il pane della vita eterna, non rimanere lontano, non rimanere lontano. La tua speranza, non temere, abbi fedele, perché Lui ti ha, raffediti dei tuoi peccati, confessa i tuoi peccati a Cristo, e Cristo ti libererà. Non temere, perché Lui ti ha, raffrediti dei tuoi peccati, confessa i tuoi peccati, confessa i tuoi peccati. Grazie Gesù!